E' quasi tutto pronto il Maria Delaide e il Cotolengo di Torino per l'accoglienza dei disabili e degli ammalati in vista dell'ostensione della sindone. 70 posti letto con possibilità di pernottamento, colazione, pranzo, cena, 200 volontari, 24 ore su 24 e assistenza medica. Il tutto a prezzi molto contenuti. Già qualche centinaia le prenotazioni provenienti da tutto il mondo. Ad oggi abbiamo 400 prenotati come ospiti nei due a questo dove ci troviamo del Maria Delaide e l'altro del Cotolengo che sono le due strutture che abbiamo preparato per accogliere pellegrini malati e disabili che vengono alla sindone. E' interessante vedere che oltre a gruppi organizzati di 30-40 persone ci sono anche molte famiglie. Sotto il profilo sanitario abbiamo la presenza di una guardia medica con presenza di due medici 24 ore su 24 che opereranno per la necessità di questo Achei e dell'Achei del Cotolengo. E' un segno di voler mettere in pratica l'amore più grande che dobbiamo avere verso le persone che sono più in difficoltà che però ci danno anche tanto perché la loro presenza, il loro modo di andare alla sindone, moltissimi si commuovono davanti alla sindone, la loro fede, la loro preghiera. Veramente sono un valore aggiunto. Gli offriremo noi stessi, gli offriremo la nostra simpatia, la nostra benevolenza, tutto il nostro essere ma soprattutto dando loro accoglienza e gioia e serenità che possano vivere bene questo evento. E' partita proprio l'idea da quando ce l'hanno comunicato di poter aiutare tutti i disabili in modo incondizionato. Ci offriamo volontari in tutto. Noi saremo qui negli Achei a guardare e ad aiutare i visitatori e quelli che hanno problemi appunto da portarli avanti e indietro e così. Come fare a prenotarsi? Per prenotare è facilissimo, è sufficiente andare sul sito della sindone, sindone.org, entrare nella finestra malati e disabili e a un certo punto c'è appunto possibilità di pernottamento in Achei e lì inizia una procedura molto semplice.